Selezionare i giorni e le stanze che si vogliono modificare. Vedere il video corrispondente per capire come procedere. Cliccare uno qualsiasi dei bottoni disponibilità. Ce n'è uno all'inizio della pagina ed un altro a sinistra della sezione di ogni tipo di stanza. Apparirà una finestra con i dettagli delle modifiche che si stanno per effettuare. Sulla sinistra appare una lista con il tipo di stanza e le date selezionate. E dal centro della finestra apparirà la lista con le stanze selezionate. Scegliere quante stanze si vogliono bloccare, sbloccare o lasciare invariate usando il riquadro che appare sulla destra del tipo di stanza. Fare una scelta e cliccare Applica. Se non si vuole effettuare alcuna modifica, cliccare Chiudi sull'angolo in alto a destra. Grazie. Grazie.